prego piero grazie buonasera a tutte a tutti intanto un po di ringraziamenti innanzitutto ai relatori che hanno accettato devo dire con entusiasmo di partecipare a questa nostra iniziativa non posso nominarli perché sono tanti e naturalmente lo farò singolarmente quando si tratterà di presentare la loro lezione ma devo ringraziare gli amici di unione popolare roma maurizio fabbri e gianni principe un ringraziamento vale compagni e compagni di trasforma italia e soprattutto alla qui presente roberto morea che rende possibile la realizzazione di questa iniziativa a maria lippiello che conno il indirizzario dema ci mette in contatto con una vasta platea di ascoltatori potenziali un ringraziamento a simona maggiorelli della rivista left e infine ma certo non ultima a marina leone che è la nostra grafica di riferimento infine un saluto consentitemi un saluto a un vasto gruppo di studenti che in questo momento ci segue da regio colabria e sotto la guida della valorosissima laura marchetti che sarà una delle relatrici una delle relatrici delle nei prossimi nelle prossime settimane allora debbo spiegare le ragioni di questa scuola online e naturalmente non vorrei limitarmi all'ovvia constatazione della sua utilità culturale vorrei fare qualche cosa di più rischiando l'oscurità perché il tema è molto complicato e svolgerlo in poche parole non è semplice noi viviamo una condizione paradossale oggi da una parte i saperi tecnici e scientifici che sono polverizzati in una merida di specialismi dall'altra parte il cielo uniforme totalitario del pensiero unico che orienta la condotta dei governi e anche quella di gran parte dell'opinione pubblica mondiale quindi da una parte conoscenza specialistica che produce tecnologie destinate a sfruttare la natura e a produrre merci dall'altra una costante abnorme di elaborazione ideologica che costituisce l'apologia delle produrre del consumare e che nasconde il saccheggio della natura di cui tutti noi siamo agenti da dove nasce questa divaricazione naturalmente per spiegarlo ci vorrebbe molto tempo io rischio voglio darvi almeno qualche informazione aiutato in questo caso dal fatto che che mi metto sulle spalle di qualche gigante il gigante in questione edgar morain il quale né la natura della natura uno dei tomi della metod scrive la fisica occidentale non ha solamente disincantato l'universo essa l'ha desolato ora perché non sia troppo oscuro questo passaggio devo ricordarvi che nel passaggio da giordano bruno a tommaso campanella l'ultima diciamo stagione del pensiero rinascimentale e passando a galilei e soprattutto a cartesio la natura da mondo vivente da organismo viene matematizzata studiata nei suoi rapporti regole leggi di movimento la natura diventa la macchina mondo che viene misurata per essere dominata e sfruttata è sempre morain che ha colto a mio avviso in maniera più lapidaria il meccanismo essenziale su cui si fonda il paradigma del pensiero scientifico moderno scrive morain in un altro testo il principio di di isolamento e di separazione nei rapporti fra l'oggetto e il suo ambiente costituisce appunto il principio il paradigma della della scienza moderna cioè l'oggetto di studio diventa un frammento della natura che viene studiato a sé prescindendo dalle sue relazioni con il gesto del vivente in questo modo nascono le scienze moderne alla fisica la botanica la biologia la chimica cioè forme di conoscenza separate che operano sulla natura smembrata settorializzata privata della sua totalità organica appunto come dice moren desolata ora queste discipline sempre più avrebbe detto marx sussunte sussunte nel meccanismo del capitale sono diventate sempre più specialistiche sempre più strumentali e sempre più finalizzata a fabbricare dispositivi e dispositivi e merce naturalmente come sappiamo questa strada presa della scienza è stata risa da un grande successo materiale economico tecnologico e tuttavia quanto più oggi queste discipline sono capace di esiti strumentali tanto più sono cieche cieche di fronte alla totalità della natura incapace cioè di vedere i danni generali che noi le infliggiamo tuttavia per completare questo quadro cioè per capire questa divaricazione tra gli specialismi tra gli specialismi il pensiero unico totalizzante devo aggiungere un altro tassello allora per spiegare appunto questo modo superante della scienza sempre più dominata dalla ragione dai fini del capitalismo del nostro tempo occorre un altro tassello e cioè è quello del ruolo del pensiero economico ebbene guardate il pensiero economico la big science insieme alla fisica del del novecento di tutta l'età contemporanea ha operato quello che posso definire il più vasto e totalitario occultamento della natura che si sia mai realizzato nella cultura occidentale se noi guardiamo alla storia del pensiero economico da adam smith a oggi noi constatiamo che la natura la natura non è stata considerata assolutamente nel processo di produzione della ricchezza vi compagnano solo il lavoro il capitale appunto gli investimenti tutti i fattori di produzione definiti fattori di produzione ma la natura non c'è al massimo ci può essere come materia prima quando è considerata nel processo di produzione e questo costituisce davvero il più grande paradosso della cultura occidentale perché l'attività umana quella del produrre consumare che ha più direttamente effetti sulla trasformazione della natura è stata non è stata rappresentata da un pensiero teorico che ha cancellato le stesse basi del del suo del suo operare è un edificio che occulta i propri i propri fondamenti ricordo un'opera di hans himmler è un autore tedesco che meriterebbe di essere sta di essere tradotta e pubblicata in italia in un'opera del del 1985 natura in the economic theory che da aristotele sin passando per i fisiocrati sin a marx per scusate chiedo a franco trane di è successo qualcosa mi sentite però roberto mi senti sentiamo perfettamente solo che non vedo niente però posso continuare esse va bene dicevo che himmler ricostruisce i processi attraverso cui progressivamente dall'età antica sino a quella contemporanea la natura viene spunta dalla pensiero economico e arriva quindi alla al neo sino al neoliberismo del nostro tempo eppure come ricorda con apparente ovvietà è lo stesso himmler in un'altra opera tutto ciò che noi produciamo lo produce la natura tutto ciò che noi consumiamo consuma la natura naturalmente eccomi non non faccio torto agli economisti ad alcuni economisti che hanno negli ultimi decenni diciamo praticato altri tipi di di economia di studi teoria economica come per esempio l'imbarimento economics che però naturalmente sono delle minoranze e non incidono più di tanto né sulla condotta dei governi né diciamo sull'opinione pubblica corrente bene quindi dell'iperspecialismo delle singole scienze combinata combinata con l'occultamento fondativo del pensiero economico che ho cercato di mostrare a origine l'inedeguatezza e la cecità la cecità della cultura occidentale di fronte al collasso ambientale e questa è questa combinazione no di iper specialismo cieco e di occultamento economico totalitario occultamento totalitario del pensiero economico naturalmente questo quadro oltre che schiamatico è anche è anche parziale perché lo dico subito suo malgrado il capitalismo produce anche cultura critica consente la formazione di intellettuali dotati di visioni generali capace di uno sguardo radicale sul sul proprio tempo almeno questo è stato possibile fin ad ora non sappiamo che soldatini dello sviluppo produrrà produrranno le università nei prossimi decenni e comunque già l'elenco dei relatori che partecipano a questa questa scuola mostrano che in italia c'è diciamo sia pure per per specimen diciamo in italia ci sono c'è un numero veramente vasto di intellettuali che possono pensare criticamente il proprio tempo allora a questo proposito voglio sfattare un luogo comune e si dice che non ci sono più gli intellettuali di un tempo gli intellettuali e civilmente politicamente impegnati non è non è vero non non sono gli intellettuali che mancano forse sono più numerosi degli anni che negli anni sessanta e settanta sono meno ideologizzati e probabilmente hanno hanno una visione più ricca della della realtà e il problema non sono gli intellettuali il problema sono i partiti politici che si sono trasformati in agenzie di marketing elettorale come io li definisco i quali non hanno più bisogno del dell'urbanista del del sociologo del dello storico del filosofo per diciamo orientare il corso della società o per ambire all'egemonia come nel caso del come era nel caso del partito di ispirazione grammisciana e gli intellettuali di riferimento per i questi queste agenzie di marketing elettorale sono un professionista come sandro pagnoncelli cioè è uno un qualcuno che indica con con indagini di mercato gli orientamenti elettorali della del diciamo dei citi dei cittadini allora quindi il problema il problema è la politica non sono non sono gli intellettuali che invece che invece non mancano no ci sono ci sono le culture critiche oggi e che anzi compongono un pluralismo di straordinaria ricchezza e tuttavia sono sono disperse queste queste forze sono prive di efficacia e trasformativa di reale influenza sui decisori politici allora questa scuola naturalmente queste più che ovvio non può sopprire e alla mancanza di un grande collettore politico che utilizzi queste forze no come accadeva in passato tuttavia oltre a far circolare saperi su un vasto pubblico speriamo anche di giovani mostra mostra e questo è un dato secondo me importante da sottolineare che il mondo scientifico intellettuale italiano ha una notevole capacità di incidere sulla formazione di un'opinione pubblica progressista civilmente civilmente impegnata soprattutto se esce dal proprio isolamento se cerca forme di cooperazione e di diciamo di utilizzo del proprio sapere a fini civili in maniera più organizzata ma più di questo naturalmente non non posso dire passo subito alla lezione un'agricoltura per il futuro della terra un'osservazione preliminare i governi del i governi del governo italiano i governi europei la stragrande maggioranza della stampa continuano a innalzare in alla transizione ecologica cosiddetta alla necessità di contenere il riscaldamento climatico ma nessuno fa accenno alla interventi sull'agricoltura eppure l'agricoltura contribuisce per il 30 40 per cento come molti di voi sanno all'effetto serra quindi all'iscaldamento climatico consuma il 70 per cento delle risorse idriche del pianeta risorse che saranno sempre più rare e preziose in avvenire e questo dipende anche da un modello di agricoltura ne parleremo più avanti è responsabile della dell'impoverimento crescente della biodiversità una delle grandi risorse dovute date dalla natura e da anche dalla diciamo dalla manipolazione millenaria dei contadini e poi vedete questo è veramente ignorato costituisce un settore dell'agricoltura industriale del nostro tempo cioè l'allevamento un settore separato la più grande minaccia per il nostro futuro perché noi non ci pensiamo ma gli uomini sono 8 milioni 8 miliardi sulla terra e si fa no un un gran parlare del futuro di questa popolazione eccessiva ma noi abbiamo alleviamo circa 60 miliardi di di animali i quali hanno bisogno di milioni di ettere di terra per essere alimentate oltre i milioni di entere di terra che essi occupano e questo modello intende essere perseguito continuato per portare il modello di alimentazione carne a tutte a tutta la popolazione del pianeta voi vedete l'assurdità di questa di questa pretesa ora noi più che di agricoltura dovremmo parlare di sistema mondiale del cibo questo ambito è dominato da pochi colossi multinazionali sono che succede mi sentite ecco si tratta di oligopoli che sono il risultato delle politiche neoliberistiche degli ultimi trent'anni mi limita a ricordarvi alcune di questi colossi come da du pont che me china monsanto bayern la monsanto peraltro è stata sorbita di recente dalla baglia sono corporation che vendono agli agricoltori semi concimi di serbanti fitofarmaci attrezzature eccetera ma sono anche a capo di lunghissime filiere produttive spero di darvi un'immagine abbastanza vivida di che cosa sono queste filiere citandovi un brano scritto da jan zigler gelatore speciale delle nazionalite per il diritto all'alimentazione a proposito della cargill un gigante americano che è stato poi assorbito da da un gigante più grande da bayern a proposito della catena del pollo ascoltate che cosa scrive che cosa scrive ziggler la card la cargill produce e fertilizzanti fosfatici a tempo in florida con quelli poi concima le sue piantagioni di soia negli stati uniti in argentina nelle fabbriche di fagioli di soia vengono vengono trasformati in farina questa farina viaggio sulle navi fino in thailandia dove serve a nutrire i polli di allevamento che poi vengono uccisi e viscerati e confezionati negli stabilimenti quasi interamente automatizzati appartenenti a cargill cargill impacchetta i polli la flotta di cargill li trasporta in giappone negli stati uniti in europa i camion di cargill li distribuiscono nei supermercati molti dei quali appartengono alle famiglie macmillan e o cargill ora a valle di questi colossi dell'agro business gli agricoltori devono fare poi i conti con altri giganti cioè i padroni della grande distribuzione commerciale che si articola nel sistema dei supermercati quelli che frequentiamo tutti noi ebbene in europa controllo nel mercato una decina di imprese in cui primeggiano carrefour tesco l'americana walmart vedete la grande distribuzione che poi è collegata ai colossi che stanno attraverso la finanza ai colossi che stanno a monte ha un esercito un condizionamento straordinario sugli agricoltori non solo perché naturalmente impone ad essi i prezzi di acquisti alla fine dell'annata agraria ma perché stabilisce anche quali devono essere i prodotti la modalità in cui devono essere prodotti le loro caratteristiche per esempio la il calo il calibro dei frutti dei formati così via gli agricoltori hanno perso ogni autonomia persino culturale sotto questo profilo sono letteralmente condannati e comandati dalle catene distributive l'esito più rilevante però di questo schiacciamento a monte a valle degli degli agricoltori sono fondamentalmente due sono davvero di grande interesse anche se drammatici il primo il primo est il primo effetto l'emarginazione della piccola e media impresa coltivatrice vi fornisco pochissime eloquentissime cifre benché siano diciamo relativamente recenti perché il fenomeno comincia comincia da tempo allora nei nei paesi dell'unione europea 28 tra il 2000 e il 2016 sono state cancellate da ogni produzione agricola 27 milioni di terre 27 milioni di ettari in italia è scomparso nello stesso periodo il 46,8 per cento delle imprese cioè quasi la metà delle imprese sono sono state abbandonate 4 milioni di ettari di terra un ettore decimila metri quadri vi ricordo ora se noi vogliamo comprendere perché tantissimi paesi in italia di spagna in grecia nelle regioni mediterranee si spopolano i territori vengono desertificati questo lo dobbiamo a questa logica dell'economia capitalistica che privilegia solo i terreni più fertili terreni di pianura i terreni che vengono naturalmente intassati dall'eccesso dall'eccesso di produzione su un altro lato noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un fenomeno straordinario vale a dire il il fatto che mentre i contadini scompaiono e i territori si vengono abbandonati si desertificano sta aumentando la forza lavoro che non a casa cioè i braccianti i braccianti migranti che vengono utilizzati solo per pochi mesi l'anno allora negli ultimi negli ultimi decenni mentre appunto scompaiono i contadini le persone stabili sul sul territorio esplode il numero il numero dei dei braccianti dei braccianti occasionali ora guardate questo è un fenomeno universale non riguarda soltanto le campagne dell'europa della california ma anche dei paesi in via di sviluppo succede la stessa cosa oggi la semina della raccolta dei prodotti agricoli e resa possibile in gran parte del mondo dal lavoro semischiavile e mal pagato dei giovani africani afghani indiani che si spezzano la schiena anche 10 ore per almeno 10 ore al giorno spesso sotto il sole rovente e mi limita un solo dato che riguarda l'italia per ciò che riguarda la crescita di questo fenomeno nel 1995 i braccianti diciamo censiti erano 50.000 nel 2013 sono diventati 300.000 nel 2020 sono diventati oltre un milione e lo dico soprattutto per i più giovani e qualcuno di voi ha sentito parlare del caporato cioè dei caporali queste figure che raccolgono nelle loro capanne la mano d'opera la mano d'opera migrante al mattino la portano nei campi la controllano danno loro le paghe eccetera eccetera ebbene questo è un fenomeno diciamo di ritorno alla schiavitù incredibile io voglio brevissimamente riportare la mia testimonianza personale quando ero ragazzo in calabria e alla fine degli anni 50 e primi anni 60 ho sentito parlare di caporalato e di caporali poi tutto questo è scomparso oggi ritorna oggi ritorna e non riguarda solo la calabria il mezzogiorno riguarda l'italia intera riguarda almeno l'intera area area del mediterraneo è un fenomeno gigantesco di inversione del processo storico che davvero si vede come il capitalismo giunto al suo alla sua maturità inverte inverte la storia allora alcune parole necessariamente in pillole per ciò che riguarda le caratteristiche di questo modello di agricoltura parliamo di agricoltura industriale cerchiamo di vedere che cos'è in sintesi e quando nasce allora vedete questa l'agricoltura che noi pratichiamo nasce a partire dagli anni 50 e si sviluppa e poi velocemente in seguito in gran parte del mondo nasce negli stati uniti si chiama rivoluzione verde verde per perché si contrappone alla rivoluzione rossa cioè quella vittoriosa nel 1949 in cina le elite americane sono preoccupate della dell'influenza che la cina esercitava la cina vittoriosa esercitava nelle campagne dell'asia perché in effetti i contadini si stavano mobilitando per occupare le terre e per diciamo trasformare la struttura fondiaria del loro paese e gli americani ricorrono a una rivoluzione tecnologica a una rivoluzione tecnologica appunto per impedire per impedire che venisse toccata l'assetto fondiario per regioni molto evidenti gli americani le eliti del della thailandia delle dei paesi dell'america latina eccetera erano composte da proprietari terrieri e queste litte erano alleate dagli stati uniti nella lotta contro il comunismo grande grande vantaggio la presenza del comunismo per la società americana e e quindi gli americani non avrebbero tollerato che diciamo le proprietà fondiarie dei di queste litte venissero intaccate venissero colpite tra volte da una rivoluzione contadina allora in che cosa consiste la rivoluzione verde è uno schema molto semplice si deve si devono scegliere le terre più fertili e questa è la rivoluzione verde è stata praticata appunto questi paesi poveri in india e in africa anche in america latina e le terre più fertili si devono usare le sementi ibride soprattutto il mais ibride altamente produttivo di improve the seeds molto concima chimico più tardi verranno i riservanti eccetera e poi acqua abbondante cioè una un uso veramente dissipativo di acqua come come vedremo ora questa rivoluzione ha avuto un grande successo sul piano produttivo sul piano generale poi vi darò dei dati ma è stato distrutturante per l'economia del sud del pianeta e ha inaugurato in tutto il mondo l'agricoltura dissipatrice insostenibile che noi oggi con cui noi oggi facciamo facciamo i conti uno dei dati più più gravi gli esiti uno degli esti più gravi di questa strategia è appunto come già vi ho anticipato la separazione tra agricoltura e allevamento in paesi come l'india l'indonesia l'africa i rafformatori hanno creato vaste monoculture industriale per prodotti destinati all'esportazione immaginando questa era la strategia che i prodotti dell'export avrebbero fornito agli imprenditori locali i capitali da investire nell'industria secondo il modello della società occidentale questo non è accaduto i piccoli coltori hanno perduto le loro terre che sono state accorpate nelle grandi aziende e solo in poche sono diventate i braccianti fissi di questa azienda tutti gli altri prive di terre di fonti di lavoro sono andate a ingrossare le periferie degradate della città sempre più grandi e in formi dell'asia dell'africa dell'america latina dunque di fronte a una crescita sicuramente rilevante della produzione globale di prodotti agricoli centinaia di milioni di contadini anni hanno perso la loro autosufficienza alimentare senza prodare a un assetto moderno della società se voi volete capire gran parte dei meccanismi che hanno portato alla alla formazione delle bidonvili nelle città informi no gigantesche dell'asia dell'africa dovete pensare agli effetti di questa di questa della rivoluzione verbo ora guardiamo un attimo dentro il successo produttivo di questa di questa rivoluzione esiste una statistica che misura l'esplosione della produttività generale eh espressa in termini di produzione di produzione granaria guardate tra il 1950 e il 1985 la produzione in termini di di grano è è aumentata del 250 per cento una diciamo una crescita eh davvero unica nella storia eh dell'agricoltura in così breve tempo ma sapete quanto in tutto che per cento in che percentuale sono aumentati gli input energetici sono aumentati di del 5.000 per cento cioè una una cifra gigantesca il 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 geologo americano che ha che ha diciamo riportato queste cifre eh David Pfeiffer eh ha intitolato il libro in cui queste cifre sono contenuto eating fossil fuels cioè mangiare carburanti fossili e questo perché eh perché l'energia l'energia necessaria per produrre tutte queste derrate eh eh è è stata realizzata attraverso il petrolio perché tanta energia tanta energia per gli scavi minerari necessari ad estrarre il potassio e i fosfati dal suolo energia per la trasformazione industriale di questi materiali grezzi energia per produrre industrialmente azoto per produrre diservanti fitofarmici per muovere le pompe idrauliche per muovere le macchine eccetera allora vi ricordo vi ricordo diciamo eh questa insostenibilità di una di una eh agricoltura di questo tipo che consuma eh quantità immense di energie poi eh tornerò un attimo a sottolineare eh l'assurdità di questo di questo paradigma allora mi limito a elencarvi eh tutta una serie di paradossi che mostrano anche al grande pubblico l'insostenibilità dell'agricoltura industriale allora il primo eh forse il più importante di tutti il più clamoroso è il fatto che questo un modello estrativo di produzione del cibo distrugge la fertilità del suolo distrugge la base della propria attività produttiva perché dopo decenni di concimazione chimica tra l'altro anche dopo decenni di di diservanti eh sintetici e di fitofarmici che cadono al suolo l'ecosistema suolo che è un un mondo vivente muore muore eh si mineralizza si disgrega e quindi eh diventa oggetto anche della distruzione da parte degli effetti degli degli estremi atmosferici ogni anno si perdono fra i dieci e dodici milioni di terra fertile c'è una statistica dell'ONU sono osservatori dell'ONU che seguono questo andamento drammatico della perdita di suolo fertile per effetto della dell'agricoltura dell'agricoltura industriale allora un altro un altro dato e l'abbiamo appena ricordato ma va sottolineato in altro modo vedete per millenni l'agricoltura è stata una produttrice netta di di energia sotto forma di cibo sotto forma mesurato in chilocalorie oggi ehm fino alla millenovecento eh l'agricoltura ha prodotto cibo ed è riuscita a dare eh fino al novecento perché dal novecento in poi incomincia incomincia diciamo eh l'uso su larga scala dei dei concimi dei concimi chimici ha prodotto energia mh soltanto utilizzando utilizzando la forza animale la forza umana è quella del sole questa agricoltura come dicevo distrugge eh la biodiversità perché sul mercato eh ci sono solo poche varietà eh di mele di pere di sussine eh eh nell'ottocento erano migliaia e oggi circolano solo le diciamo le varietà che si prestano meglio ai trasporti eh che sono eh diciamo che provengono da piante con alta produzione ma noi perdiamo perdiamo cioè i cittadini i consumatori perdono un'infinita varietà di possibilità di sapori eccetera che un tempo esistevano e che ora non sono non sono non sono più disponibili quindi è un impoverimento non è non è un incremento di ricchezza è un impoverimento eh di fatto un altro dato veramente paradossale l'agricoltura industriale tende a produrre alimenti sempre più intrinsecamente scadenti anche se magari pomologicamente sono più attroenti più eh più lucidi più meglio colorate e così via e mh vedete chi appartiene chi appartiene alla mia alla mia generazione eh ricorda una diversa sapidità per esempio dei frutti oltre che eh ortaggi e così via e non si tratta di un'illusione eh o di nostalgia diciamo è un fatto reale questo accade sapete perché perché dopo decenni dopo decenni di concimazione artificiale i sali chimici sostituiscono nel terreno i minerali originari che sono il risultato della composizione della roccia madre e quindi i prodotti tendono ad avere un gusto artificiale uniforme vedete nelle in Francia i grandi crew francesi hanno perso il sapore del loro terroir e sono divenuti ad un certo punto sempre più uniformi e ci hanno dovuto pensare gli enologi a truccare eh diciamo i sapori di questi vini che ormai eh avevano perduto il loro legame originario con con l'originale eh territorio delle colline eh delle colline francesi un altro aspetto vedete l'agricoltura industriale tende eh a produrre a produrre produzione senza senza persone campagne senza uomini pensate nel negli Stati Uniti a proposito della della coltivazione del tabacco si dice anche su superficie stessissime si dice che è one show man lo spettacolo cioè l'operazione di un solo uomo che con con le macchine fa tutto da solo ora vedete e naturalmente l'ingresso delle macchine in agricoltura è stato un fatto positivo perché ha cresciuto enormemente la produttività del lavoro e ha liberato gli uomini da fatiche anche terribili durate durate secoli e ma eh come tutti i fenomeni eh eh è soggetta alla durata del tempo alla ehm alla trasformazione con cui il tempo modifica la qualità dei fenomeni e questo questo succede anche al capitalismo che come ricorderete nella descrizione anche eh di un nostro classico il manifesto dei comunisti di Marx ed Engels ehm il capitalismo è anche diciamo no magnificato come il più rivoluzionario modo di produzione della storia di fatti estate e quello capace di produrre più ricchezza rispetto a a tutti i modelli precedenti ma questa positività eh alla fine si rovesce nel suo contrario perché il tempo trasforma trasforma appunto eh la natura la natura dei dei fenomeni dei fenomeni sociali allora mh questa ehm questa ehm questa ehm desertificazione diciamo dei territori anche per effetto del delle macchine eh naturalmente eh allontana eh dal territorio il presidio umano l'agricoltura non è solo produzione di beni agricoli è anche controllo e presidio del territorio cura no del eh diciamo della complessità della complessità di di un abitato e soprattutto in un paese come l'Italia dove le alture eh montagne e colline occupano quasi l'ottanta per cento eh della della penisola. Naturalmente potrei potrei continuare eh in questo elenco ma mi fermo e mi limito a darvi qualche idea un poco più un poco meno generica eh a proposito della insostenibilità eh degli allevamenti degli allevamenti intensivi perché una inchiesta l'unica almeno che io conosca ma credo che sia l'unica in assoluto della FAO del 1918 Global Review of Water Pollution from Agriculture eh ci dice dei dati certi no risultato di una vasta inchiesta internazionale nel 1970 i i capi di allevamento erano 7,3 miliardi nel 2011 erano diventati 24,2 miliardi allora allora occupavano il 33 per cento delle superfici agricole mondiali e necessitavano del 27 per cento delle terre emerse per produrre soia mais orzo tutte vaste monoculture che si trovano concentrate negli Stati Uniti in Argentina in 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 Brasile. La foresta mozzonica è la grande è la grande vittima di questa tendenza all'espansione delle allevamenti perché si abbattono si abbatte la foresta per nuovi range e per coltivare soia o maes. Oggi ripeto non abbiamo dato aggiornati ma diciamo la ehm la letteratura corrente oscilla in una valutazione che va tra i 60 e 80 e 80 miliardi. Allora vi ricordo che questi allevamenti sono la maggiore fonte di inquinamento dell'acqua paradossale paradosso dentro il paradosso perché eh l'agricoltura eh consuma il 70 per cento come ho ricordato delle risorse idriche è anche eh ed è anche la maggiore fonte di inquinamento della stessa acqua con antibiotici naturalmente germipatogene e così via. Produce gas serra soprattutto metano gli allevamenti producono soprattutto metano un gas serra molto più potente della CO2. Costituiscono gli allevamenti potenziali come sappiamo eh focolai di pandemia eh e poi naturalmente trascuro tutto tutto l'aspetto salutistico legato all'alimentazione eh carnea l'alimentazione di questa carne così allevata. Allora vediamo sperando che non siate troppo stanchi alla alla pars eh costruens del discorso cioè a un'agricoltura per il futuro della terra. Perché noi sappiamo rispetto a questo quadro diciamo a forti tinte che io ho cercato di fornirvi che esistono delle opposizioni, opposizione al modello di agricoltura industriale, delle controtendenze, delle contronarrazioni, chiamavolo pure così. Alcune sono politiche eh sia di movimenti contadini come per esempio i SEM Terra del 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 Brasile eh sia eh eh da parte eh da parte da parte di singoli stati. L'altra contotendenza sono sono di strategie produttive e di un nuovo paradigma culturale di cui in breve vi dirò tra poco. Vedete molte eliti dirigenti da anni si stanno emancipando dal dal modello della della rivoluzione verde. Non spingono più i loro contadini a produrre per il mercato ma per soddisfare la domanda alimentare del loro paese, per sfamare il loro paese. Per brevità vi cito una eh riflessione del presidente, dell'ex presidente del Malawi, Peter eh eh Mutarik che in un intervento a una conferenza dell'Unione Africana del 2010 ebbe a dire per lungo tempo nelle aree rurali abbiamo detto ai contadini poveri africani che dovevano competere attraverso le strutture del libero mercato con gli agricoltori avanzati dei paesi industrializzati. Sfortunatamente l'Africa ha accettato questa falsità. Quanto abbiamo sbagliato e quale prezzo abbiamo pagato. Vedete oggi di questo errore è consapevole perfino la Banca Mondiale che ha tanto a tanto diciamo tanta responsabilità ha avuto nell'indirizzare gli stati in questa direzione. Oggi gran parte degli stati aiutano e proteggono l'agricoltura contadina. Un'altra importante controtendenza questa volta a Spentani è stata descritta dal sociologo rurale Jan van der Ploeg nel volume I nuovi contadini pubblicata da Donzelli nel 2015. Chi sono i nuovi contadini? I nuovi contadini sono quelle figure schiacciate per l'appunto come abbiamo visto dai colossi dell'agrobusiness e della grande distribuzione che non hanno abbandonato la terra ma sono usciti dal sistema. Cioè non comprano più concimi, fitofarmici eccetera perché non ce la fanno. Praticano un'agricoltura contadina, non vendono ai supermercati ma cercano un rapporto diretto con i consumatori e creano anche delle comunità di acquisto. Ci sono tantissime forme. Poi come sapete ci sono anche i gas, i gruppi di acquisto solidale e altre forme consimili in Francia, negli Stati Uniti, un po' dovunque, che aiutano questi contadini ad avere un rapporto diretto con i consumatori cittadini. Un'altra importante controtendenza in atto è rappresentata dall'agricoltura biologica e biodinamica che è nata quasi un secolo fa come reazione all'agricoltura industriale e agli allevamenti di massa. È in espansione in tutto il mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Vi ricordo che l'Italia non figura male in questa statistica, è al secondo posto in Europa con 1.800 ettari dopo la Spagna che ne ha 2 milioni. Devo aggiungere che l'espansione del biologico rientra nel progetto Green Deal dell'Unione Europea per contenere l'iscaldamento climatico e che prevede una superficie del 25% occupata dal biologico entro il 2030. L'Italia è al 15,50%, la media dell'Unione Europea è ancora ferma all'8,5%. Qualche cosa sulle caratteristiche di controtendenza di questa agricoltura. Dovrei aggiungere che ci sono anche molte forme di agricoltura biologica o biodinamica o di altro tipo come la pemacultura, l'agricoltura sinergica, eccetera. Ci vorrebbe un'altra lezione per parlarne. La cosa importante da sottolineare è che queste agricolture praticano un'economia circolare, vale a dire riportano alla terra la sostanza organica sottratta con la coltivazione per rigenerare la fertilità e lo fanno utilizzando il letame. Le aziende biodinamiche tendono ad avere un po' di allevamento all'interno dell'azienda per ricostituire la coppia allevamento agricoltura come è stata per qualche secolo. E poi la materia fertilizzante si attiene anche attraverso il compostaggio dei rifiuti, aspetto importante. Si tratta di una pratica questa che ha messo in collegamento per millenni le città con le campagne. Allora qui voglio citarvi davvero un aspetto che spero vi interesserà e vi sorprenderà. Io ho trovato una testimonianza antichissima di questa pratica di utilizzare i rifiuti urbani per rigenerare la fertilità della terra. La fonte è niente di meno Omero, Odissea, Canto XVII, uno dei passi più struggenti del poema. Ulisse, appena sbarcato a Itaco, a Itaco, scorge l'amato cane Argo, malato e morente, disteso davanti alle porte. Scrive Omero, o chi per lui, ora giaceva là, trascurato, partito il padrone, su molto letame di muli e buoi, che davanti alle porte ammassavano perché poi là lo portassero i servi a concimare il grande terreno di Odissea. Vedete, questo scambio tra città e compagna è durato fino ai primi del Novecento. Esiste un bel libro di Ercole e Sore, La città e i rifiuti, pubblicato dal mulino, e anche chi vi scrive ha scritto qualcosa in proposito. Aggiungo che tra otto e novecento, diciamo, oltre ai rifiuti urbani, si portava nelle campagne per rigenerare la fertilità della terra anche i resti, i residui della industria alimentare, i pannelli di colza, dei semi di colza, i resti della lavorazione della birra, le sanse della lavorazione dell'ulive, eccetera. Quindi ricordo che questa economia circolare, senza concimi chimici, senza scavare miniere di potassio, di fosfati, ha permesso all'umanità di sopravvivere e di portare la popolazione mondiale appunto a superare ai primi del Novecento il miliardo di individui. Non si vede, tra l'altro, perché oggi i rifiuti organici, che oggi costituiscono un problema per le nostre città, non possono ritornare nel circolo riproduttivo che è stato condotto, che è stato praticato, appunto, come ho detto, per millenni. Devo parlare brevemente, spero di non stancarvi, di un'altra controtendenza molto importante. Si tratta dell'agroecologia, di cui avrete sentito parlare. È nata in America Latina dalla collaborazione tra gli agronomi, soprattutto i genetisti, e i contadini. Ed è un'agricoltura che ha, rispetto alle precedenti, dentro di sé la consapevolezza di dover fare i conti con il disordine del clima che ci attende nei prossimi anni. Allora, molto brevemente, in che cosa consiste questa strategia? Questa strategia consiste nel mettere insieme, fare dei miscugli di semi per la coltivazione. Si mettono semi che hanno attitudine alla resistenza all'umidità, altra resistenza alla siccità, altra al freddo, altra al caldo e così via. In questo modo, il risultato è che si ottengono sempre dei raccolti medico, l'un che sia l'andamento dell'annata. Però, diciamo, il vantaggio è anche un altro. Queste agricolture si chiamano, infatti, di miglioramento genetico partecipativo, perché i genetisti lavorano fianco a fianco, così hanno cominciato a fare in Brasile, negli alti piani della Bolivia, in Cile, eccetera, a fianco a fianco con i genetisti, che hanno un istituto, un istituto di ricerca, i contadini mettono a loro sapienza empirica, la conoscenza delle caratteristiche delle piante, e poi i laboratori, i genetisti studiano i semi, studiano queste piante e fanno poi gli esperimenti in vivo nel campo insieme ai contadini. Allora, questo sistema genetico partecipativo è anche detto sistema genetico, miglioramento genetico evolutivo. Perché? Perché, vedete, mettendo insieme i vari semi, se per più annate consecutive c'è una tendenza al riscaldamento del clima, i semi che hanno queste attitudini, cioè a produrre meglio con grande caldo, tenderanno a fare più prodotto. E quindi i semi raccolti dopo l'annata agraria saranno maggiori nella composizione del miscuglio e quindi aumenteranno le piante che resistono alla siccità, che resistono alle avversità climatiche. Uno studioso, un genetista italiano, Salvatore Ceccarelli, che ha lavorato per decenni in Siria e anche in altri paesi del sud e dell'est del mondo, ha scritto tra tante cose un libretto che si intitola mescolate, contadine mescolate, il quale mostra la validità di questo sistema, soprattutto rispetto agli OGM. Ecco, lasciatemi dire due cose sugli OGM, immagino che ci sia curiosità da parte vostra su queste. Gli OGM, adesso ci sono nuovi tipi di OGM, non si utilizzano specie, non c'è un trasferimento di specie diversa nella pianta, ma sono ancora perdenti sul piano strategico, perché alla lunga gli OGM possono dare una soluzione temporanea ai problemi, ma poi gli insetti oppure le erbe spontanee hanno il sopravvento, si organizzano e riescono a resistere, come hanno fatto già nelle pianure dell'Argentina, degli Stati Uniti, eccetera. Allora, qual è il limite di questi organismi geneticamente magnitici? Il primo è che, nonostante, diciamo, l'innovazione tecnologica, all'impostazione di fondo rimane quella dell'agricoltura industriale, cioè concimazione chimica, disservanti, eccetera, eccetera, e naturalmente monoculture, vaste monoculture orientate al profitto, quindi con gli effetti sugli equilibri ambientali che rimangono immutati. Ma l'altro limite fondamentale, giustamente sottolineato da Ceccarelli, è che si tratta di costrutti genetici uniformi. Cioè, con queste piante OGM si creano delle vaste monoculture, le quali, se vengono colpite da un parassita, da un fungo, o da qualche patologia, vengono distrutti in maniera totalitaria. È la stessa cosa che accade negli allevamenti intensivi. Perciò la biodiversità è la chiave di volta del futuro. La biodiversità è, tra l'altro, la ricchezza selezionata nei millenni dai contadini, la ricchezza naturale del mondo selvatico, che viene messa a disposizione per affrontare tutte le varietà possibili. Vi ricordo che l'agricoltura dura da 10.000 anni, e in 10.000 anni i contadini sono riusciti a superare tutte le variazioni climatiche che si sono abbattute sul pianeta Terra. Sono riusciti sempre a fronteggiare le sfide e a portare l'umanità dove l'hanno portata. Allora, vedo di finire con questa considerazione d'insieme. Allora, perché questa è un'agricoltura per il futuro della Terra? Perché ha un bisogno ridotto di energia e di acqua. Non ha bisogno di fitofarmaci. Questo è un capitolo che ho dovuto trascurare, ma casomai nella discussione ve ne parlerò. Rigenera continuamente la fertilità del suolo. Riduce l'effetto serra e conserva il carbonio nel suolo. Produce cibo sano e non contaminato. Fa rinascere le economie contadine e ripopola i territori. Crea un nuovo rapporto tra produttore e consumatore. Il cibo diventa un valore d'uso e sempre meno si trasforma in un valore di scambio. E questo al fine di costruire un'economia mondiale cooperativa che non sia fonte di conflitti e guerre. Perché vedete, se i popoli dovranno lottare per le terre fertili, per l'acqua, per le aree disponibili, la guerra tra i popoli sarà l'ultima pagina della nostra storia. Quindi un'agricoltura così impostata rappresenta davvero un grande contributo, non solo per il futuro dell'umanità dal punto di vista alimentare, ma anche per la pace. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie, grazie. Grazie, Piero. Avete sentito? Sì, sì, sì. Va bene. Bene, adesso se ci sono commenti, se ci sono domande da fare, magari potete scrivere in chat, vedo già una mano alzata, Giorgio Pezzutto. Sì, ciao a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Professore Bevacco, la mia domanda è questa. Questi metodi, diciamo, alternativi a quella che ormai l'agricoltura è gestita dalle grandi punti razionali, questi metodi, ci sono studi che ci dicono che sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno alimentare mondiale, che oggi è imponente, con 7 miliardi, mi pare, se ormai alle soglie ho già superato i 7 miliardi di abitanti. Mi chiedo se ci sono studi, se ci sono teorie in grado di sostenere che i metodi alternativi siano in grado di soddisfare le esigenze della popolazione umana. Guardi, rispondo subito, perché questa è un'obiezione fondamentale. È per esempio l'obiezione che fa la senatrice Cattaneo a questi metodi. Ne fa un alibi, secondo me, perché tutto continui come prima, senza nessun riguardo per ciò che accade al pianeta. Le do dei dati. Secondo dati FAO, esistono oggi alimentazione sufficiente per famare 10-12 miliardi di persone? Quanto i demografi prevedono saranno nel 2050, quando la crescita della popolazione raggiungerà prevedibilmente il futuro? Oggi vanno a finire nella spazzatura un miliardo e 300 milioni di tonnellate l'anno a livello mondiale. Potrebbero sfamare 4 miliardi di persone. Ma poi noi abbiamo un'agricoltura eccedentaria. Non c'è un problema di produrre cibo. Abbiamo un'agricoltura eccedentaria. Dal 1988 esistono i programmi di set aside dell'Unione Europea e un programma simile ce l'hanno gli Stati Uniti per non coltivare le aree marginali. Milioni di ettere di terra sono stati abbandonati. Non sono quelli che ho citato io che riguardano il 2013, ma quelli che iniziano ad essere abbandonati dopo l'88 perché i depositi di Bruxelles scoppiavano di grano, di mais, di latte liquido in polvere, di carne e bovina eccetera, per eccesso di produzione. Cioè le nostre agricolture producono troppo. Vi aggiungo, nelle mondo per produrre biocarburanti, cioè per non produrre cibo, per utilizzare il cibo non a fini di alimentazione, per sfamare le popolazioni del mondo, 100 milioni di ettari vengono utilizzati per produrre etanolo. Gli Stati Uniti hanno una legge federale che impone la trasformazione in etanolo di una parte del loro mais. Allora, e poi c'è il dato abnorme che ho citato, cioè c'è un'immensa quantità di terre che viene dove si coltiva alimento per un numero sproporzionato di animali. Quindi non è che mancano le terre per sfamare. Noi potremmo riempire i nostri territori di agricoltura biologica e biodinamica di piccola scala, che sono meno produttive, perché naturalmente se non ci si mette un input esagerato di consumi chimici, se non si ricorre ai diserbanti per togliere anche il papavero più isolato in mezzo al campo di grano e così via. Ma noi abbiamo la possibilità di sfamare tutta la popolazione, cioè noi reggiamo benissimo. D'altra parte, guardi, ci sono dati, che qui non posso citare, sulla biocultura intensiva, dove la produttività, quella permacultura, il terreno non diposta mai, dove la produzione è anche più elevata delle monoculture industriali. È un falso problema. D'altra parte, questi dati che le ho fornito dovrebbero darle un'idea di come è mal posto il problema. Noi potremmo sfamare benissimo il pianeta, ma poi ci sono forme praticate in alcune realtà biologiche. Per esempio, gli allevamenti, i fruttetti. Nei fruttetti si possono allevare i polli, volatti di vari, eccetera, e quindi avere produzione di carne, produzione di uova, produzione di pulcini. Nelle risaie cinesi e della Malesia si utilizzano le anatre per ripulire le acque dalle erbe infestanti. Queste anatre mangiano gli insetti, le zanzare, concimono continuamente il suolo e poi naturalmente producono uova, producono pulcini, producono carne e così via. Cioè è la specializzazione per produttiva del capitalismo che ha creato per fini di profitto, diciamo, queste separazioni, mentre invece noi possiamo produrre su piccola scala e ricomponiamo le comunità. Ricomponiamo le comunità, mentre oggi il capitalismo desertifica, come ho detto, i territori, se rinascono, pensate, se i ragazzi africani che hanno un minimo di esperienza agricola venissero aiutati con cooperative sulle nostre colline, potrebbero mettere in piedi agricolture, potrebbero ripopolare quelle terre, potrebbero offrire produzione. Le possibilità produttive sono immense. Chi obietta su questo versante non conosce i problemi, aumenta deliberatamente. Grazie, siccome ho un po' di persone, credo che sia meglio sentire un po' di questioni per poi darti di nuovo la parola. Nel frattempo ti chiedo se puoi abbassare un po' la telecamera perché non ti vediamo bene. Bruno Zanatta. Buonasera, mi sentite? Sì, bene, grazie. Mi sentite, scusate? Sì, sì, ti sentiamo bene. Allora, io ringrazio il professor Bevilacqua e condivido in gran parte le cose che ha detto. Seguo sul manifesto Vandana Shiva, che considero una figura importantissima nella critica dell'agroindustria e nella proposizione di nuovi modelli appunto di produzione e di vita. Devo dire che una cosa probabilmente è stata trascurata dal professore che invece io considero importantissima e cioè una figura, diciamo così, di contadino futuro e forse anche un soggetto potenzialmente rivoluzionario in questa che effettivamente è un po' una rivoluzione da mettere in campo in atto. Parlo dell'orticoltore, dell'orto urbano. Allora, sapete tutti più o meno che gli orti urbani sono una realtà che è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi decenni e che sta raccogliendo un enorme interesse e adesione. Faccio un esempio. A Padova, nell'ultimo bando che è stato aperto per assegnare dei lotti, ci sono state quasi mille domande ma sono stati assegnati solo 130 orti. Allora, questo per dirvi l'interesse di questa attività che, per usare le parole del professore, è ricomposizione in piccola scala ovviamente, minima scala. Si tratta di 30 metri quadri. Pensate, è l'equivalente di un parcheggio, grosso modo. Per fare un parcheggio ci vogliono 25 metri quadri per organizzarlo e questi nostri lotti sono di 30 metri quadri. Ora, sono lotti distribuiti, ci siamo raggruppati in dei gruppi che sono di 3-4 mila metri, ma sono tutti coltivati a ortaggi. Ovviamente vi lascio immaginare che si pratica il metodo biologico. Allora, sarà perché vivo con interesse e passione anche questa esperienza e la suggerisco e vorrei invitare anche il professore eventualmente a riflettere su quanto può essere importante in futuro e far crescere in maniera esponenziale l'interesse e la possibilità per moltissima gente che chiede di vivere appunto questa esperienza che è salute sia psichica che fisica. Grazie. Grazie a te Bruno. Finuccia Montanari. Eccomi, mi sentite? Ah, perfetto. Tenervi nell'esposizione delle domande così da dare tempo. Sì, io chiedevo al professore che ringrazio molto un approfondimento che secondo me è centrale che riguarda appunto la visione meccanicistica e riduzionista che di fatto è alla base della trasformazione della terra come appunto un investimento industriale sotto il controllo della finanza globale. questo è un tema che secondo me è assolutamente sottovalutato nelle analisi e qui questo è un punto che chiedevo appunto di approfondire. Poi gli altri due temi che mi interessano molto riguardano uno appunto la perdita di biodiversità dovuta soprattutto come denuncia anche Vandana Shiva alle monoculture e a questo impatto gravissimo che le monoculture hanno sulla vita delle persone soprattutto appunto nei paesi nei paesi più poveri e questa è una questione centrale. E l'altro punto che volevo appunto per cui volevo chiedere un approfondimento riguarda da un lato le risposte della politica. Io faccio parte di coloro che fecero appunto la raccolta di firme per il referendum contro i pesticidi e l'utilizzo dei pesticidi perché avevamo anche fatto delle simulazioni del Tribunale Internazionale dell'Ambiente per capire qual era l'impatto anche sui lavoratori sui contadini ad esempio dell'Emilia Romagna che usavano in modo spropositato questi pesticidi che si ammalavano di gravi patologie naturalmente irreversibili. E quindi la politica non è in grado secondo me ancora di comprendere e di rispondere come non è in grado nella programmazione politica perché io che mi sono confrontata col tema appunto dei flussi biologici e dei flussi tecnici soprattutto i flussi biologici nella gestione sostenibile dei rifiuti e questa comprensione della necessità che i nostri rifiuti organici vengano trasformati e utilizzati per ridare vigore alla terra è un tema che rimane assolutamente diciamo non valutato in modo serio dalla politica e poi l'altro tema è quello della risposta che lui stava già dando che secondo me è importantissima e cioè che forse solo il ritorno alle economie locali circolari e solidali che come diceva Gandhi appunto il cibo non deve viaggiare troppo appunto che forse è la risposta per il recupero del valore della terra e del valore appunto di quello che ci circonda grazie Pinuccia adesso Emanuele Negro buonasera a tutte e tutti allora grazie innanzitutto a Bevilacqua per la sua presentazione e soprattutto poi per l'organizzazione di tutto questo ciclo di incontri un problema che su quale si rifletto da tempo ma che mi farebbe piacere condividere e che nasce appunto come relazione a questa presentazione è il seguente di agricoltura biologica di reti corte di reti circolari di distribuzione gruppo di acquisto si parla e si pratica diciamo da una trentina d'anni quindi non è un fenomeno così recente forse si parla di più recentemente ma è una cosa che esiste da tempo ma nonostante questa anzianità è rimasto essenzialmente un fenomeno di nicchia nicchia privilegiata perché è inutile negarlo chi sono gli acquirenti di prodotti biologici attualmente sono delle classi privilegiate socialmente ed economicamente e culturalmente non sempre ma comunque sono necessariamente privilegiate tanto quanto chi pratica e vive di agroecologia nei paesi in via di sviluppo sono delle persone che praticano un'agricoltura e una struttura di sussistenza allora il problema che mi pongo e che pongo a Bevilacqua che pongo a tutti e tutte è il seguente come fare per oltrepassare questa trappola questo collo di bottiglia che sicuramente è la direzione giusta perché sono interamente d'accordo e penso che non ci sia assolutamente nulla da dire su tutti i punti e tutti gli obiettivi che Bevilacqua ha presentato come necessario raccomandabile soprattutto necessario per una questione di sostenibilità e sopravvivenza sulla terra e sopravvivenza alimentare però fin tanto che i prodotti dell'agricoltura biologica o dell'agricoltura ragionata restano dei prodotti di bicchia tutto questo riguarderanno un'elite che potrà sicuramente approfittarne ma non è un fenomeno non sarà mai un fenomeno di massa allora come sorpassare questo problema che poi porta con sé tutto il problema dello sfruttamento della manodopera perché è chiaro che verdura e frutta resa disponibile sui mercati lontani dalle zone di produzione a prezzi del tutto irrisori vuol dire che la catena di valore di quel prodotto parte da una manodopera pagata praticamente zero cioè dall'asfruttamento allora fatto salvo questa question dell'asfruttamento come superare questo questo impasse grazie grazie molto interessante e giusta questa osservazione e do la parola a Paolo Maddalena grazie mi compiaccio con l'iniziativa di Piero Bevilacqua molto utile la mia osservazione è che nei campi diversi io mi occupo di diritto da molti anni perché ne ho 86 adesso quindi fate i conti insomma vedo che cambiati gli oggetti il problema diventa sempre lo stesso in realtà in campo giuridico si verifica la prevalenza della volontà egoistica del mercante e quindi di chi utilizza il terribile diritto della proprietà privata su tutte le soluzioni possibili specialmente quelle che ha indicato molto brillantemente Piero Bevilacqua che viene alla radice perché partiamo dalla terra in realtà in realtà il valore massimo che io ritengo esista sia quello della vita della vita individuale della vita universale e del principio di eguaglianza in modo che tutti possono vivere avere una vita libera e dignitosa come dice l'articolo 36 della Costituzione come vedete l'aspetto giuridico costituzionale io voglio essere molto breve coincide perfettamente con quello che si dice e quello che abbiamo sentito molto puntualmente molto approfonditamente nel campo dell'agricoltura ora mi chiedo cioè dico e chiedo dal mio punto di vista dal mio punto di vista i danni maggiori alla situazione attuale e dico subito al predominio della finanza sul diritto guardate che ci sono costituzionalisti oggi che in televisione storcono la Costituzione per dar ragione che so alla Meloni non so a Salvini o chi sia in realtà quello che si è perso dalla Costituzione che ha un grande insegnamento che è un grande insegnamento è che accanto alla proprietà privata esista la proprietà pubblica c'è la proprietà di tutti la proprietà della comunità e secondo me questo è il comunitarismo della Costituzione che va messo in atto per poter far realizzare tutti quei disegni che servono per un'agricoltura contadina per un'agricoltura biologica e così via dicendo quello che sto dicendo adesso lo dico da vent'anni da trent'anni purtroppo sono stato isolato alla Corte Costituzionale però alcune sentenze a favore dell'ambiente a dispetto di tutti le ho scritte e stanno lì e esplicano la loro funzione ma la maggior parte dei miei colleghi giuristi specie quelli che hanno maggiore apparenza nei media è contro questa impostazione basta pensare alla tragedia delle privatizzazioni noi abbiamo perso tutto il patrimonio pubblico del popolo italiano le delocalizzazioni tutto quello che l'egoismo umano vuole si è tradotto in un'economia fuorviante un'economia che ha come obiettivo l'accumulo del denaro l'avarizia l'accumulo del denaro e la sopraffazione dei singoli perché si toglie ai singoli quello che loro naturalmente per diritto dell'uomo hanno diritto hanno diritto ad avere quindi come vedete i problemi si incrociano però da giurista devo porre in evidenza come sia importante questo aspetto della prevalenza del diritto e io indico come diritto veramente un modello eccezionale avendola studiata abbastanza che è la nostra costituzione repubblicana e democratica quindi secondo me per realizzare tutto questo occorre far ricorso all'istituto che nel 1231 si inventò Federico II re di Sicilia imperatore del del sacro romano impero dopo aver visto lo spessettamento della proprietà in mille del territorio in mille proprietà private lui Federico II inventò il demanium cioè dire mi sei fuori del mercato fuori del mercato i beni essenziali per la vita della vita umana io credo che bisogna arrivare a un'operazione di questo tipo bisogna fare in modo che i beni essenziali alla vita una vita libera e dignitosa dicevo prima e quindi anche i beni essenziali per la costituzione per la realizzazione del nostro meraviglioso stato dipinto nella tracciata in costituzione che sia ben chiaro si chiama stato comunità stato comunità realizzazione della comunità che comprende una comunità nazionale e tante altre comunità minori fino ad arrivare alle comunità locali con autonomia e armonia di ogni comunità in un contesto generale che è quello dei principi fondamentali della nostra costituzione e dei diritti fondamentali della nostra costituzione Federico II non aveva la costituzione che abbiamo noi noi abbiamo una grande costituzione ed è vigente ma è calpestata in modo violento stupido e senza nessun ritegno pensiamo alla cosa hanno fatto con il blocco delle navi delle ONG dove l'umanità non esiste non esiste più per niente eccetera e questo non solo l'Italia ma l'intera Europa quindi io credo che forse il nostro problema coincide a questo punto il problema di tutti quello di realizzare una nuova educazione verso la solidarietà l'articolo 2 della Costituzione dice la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e impone inderogabili i doveri di solidarietà politica economica e sociale pensate che questa è in virtù della disposizione diciottesima della Costituzione stessa la legge fondamentale dello Stato santo cielo facciamo capire alle persone i nostri concittadini che abbiamo tutte le armi per poter realizzare quella che io chiamerei anche una sorta di decrescita perché non è che dobbiamo abbuffarci chissà di quante cose non è che dobbiamo sprecare avere chissà quanto la vita libera e dignitosa è quella che è anche sobria e quindi mettiamo in piedi un discorso di questo tipo credo spero che Bevi l'acqua sia d'accordo con me io certamente caro 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 Piero ho molto apprezzato questa tua iniziativa e adesso vorrei che tu ci sei dentro parlerai di beni comuni il 2 marzo sicuramente ci ho tenuto a essere presente alla prima trasmissione grazie ed è stato un po' difficile sono arrivato un po' in ritardo perché mi sono fatto vedere la tiroide da un medico insomma credo che insomma dovremo poi alla fine mettere insieme mettere su uno stesso su una stessa piattaforma si dice adesso i vari risultati nelle varie materie e far capire che poi l'obiettivo è uno l'obiettivo centrale è uno far valere le leggi naturali e santo cielo sapeste quanto mi ha fatto bruciare durante tutta la mia vita il fatto che al diritto naturale quello di Costa per dire questi dei grandi costituzionalisti sostituito dal dal diritto positivo qui la colpa è di Kelsen ma si è arrivato poi addirittura al al nichilismo giuridico e si dice che qualsiasi cosa si può fare siamo alla fine ricostruiamo secondo la natura che è secondo le leggi naturali tutto quello che serve a noi perché noi siamo parte della natura è una grande è un grande errore ritenersi distinto dalla natura concludo secondo me l'orientamento filosofico che ci ha portato alla rovina ecologica è stata proprio quella di Cartesio Spinoza che ha eccetera che hanno diviso la res cogitans dalla res estensa credo che le due cose siano unite e che aveva ragione il povero Giordano Bruno quando fu bruciato a piazza Giordano Bruno a Roma quando diceva è lo spirito che crea la materia non la materia che crea lo spirito scusatemi se mi sono un po' dilungato sono argomenti di grande importanza grazie assolutamente questi sono degni di una lezione che sicuramente verremo con Piero e con tutti voi nei prossimi giorni io adesso do la parola invece a Piero per dare un po' delle risposte alle questioni sollevate e con questo poi salutiamo e vi ringraziamo per aver partecipato sono stati tanti e molto interessati grazie ancora Piero bevi l'acqua da te la parola sì grazie allora molto rapidamente perché la carne al fuoco è veramente tanta intanto gli orti urbani sì grazie per questa osservazione in fondo gli orti urbani sono come dire un'aggiunta all'argomentazione che io svolgevo a proposito della possibilità di alimentare la popolazione umana negli anni a venire con metodi biologici perché c'è la possibilità di appunto di utilizzare molte terre marginali questo è un movimento che dura si è fermato in Italia ma dura da anni anche nelle città europee cioè le aree dismesse anziché essere edificate vengono occupate per fare degli orti per per fare per piantare alberi ed è un movimento che con cui noi dovremmo incoraggiare la gioventù perché piantare alberi in città riportare alla natura per quanto possibile in città è un fatto di grande interesse non tanto per quel po' di contributo all'alimentazione fresca che può dare ai cittadini ma perché le piante e il verde sono regolatori climatici e contribuiscono a diminuire le calure le calure estive del resto il fenomeno è anche diciamo esteso in città come Parigi per esempio addirittura viene quindi città che d'inverno hanno temperature piuttosto rigide si allevano le api sui terrazzi si fanno si fanno orti pensili cioè si tenta di impiantare di impiantare verde allora il mondo il mondo meccanizzato e qui diciamo a mio avviso il più grande critico del processo di meccanizzazione insieme a tanti altri per carità è davvero Edgar Morin il quale ha dedicato diversi volumi alla la natura della vita la natura della natura il pensiero ecologico eccetera in cui mostra come ha proceduto la scienza diciamo separando sempre di più e sottoponendo a indagini specifici di laboratorio la materia vivente però isolandola dal contesto ambientale studiandola in se stessa e questo ha fatto perdere di vista la totalità del mondo vivente noi abbiamo marciato in questo modo ma naturalmente non dobbiamo dimenticare il grande motore che sta dietro il motore è lo sviluppo capitalistico e anche la finanza come ricordava adesso Paolo Maddalena la finanza ha un valore di collegamento straordinario quando io ho parlato a monte a valle dei grandi oligopoli questi oligopoli sono collegati insieme dalla finanza perché chi gestisce i supermercati ha azioni anche diciamo nell'agrobusiness e viceversa è un mondo unificato che ha una potenza enorme sul ceto politico vedete con quanto difficoltà cerco di rispondere un poco alle tante questioni che mi ha posto Pinuccia che meriterebbero una lezione a sé con quante difficoltà in Europa dove si sta cercando di diciamo proibire l'uso del glisofato un diservante potentissimo della della Monsanto che è accusato di essere cancerogeno e non si riesce non si riesce a bandirlo dalle nostre campagne perché queste queste forze finanziarie fanno un'azione di lobbying anche aperta a Bruxelles sui decisori politici e queste commissioni scientifiche sono commissioni scientifiche molto addomesticate che diciamo sono sensibili all'odore dei soldi naturalmente io non posso dire nulla di preciso ma è chiaro che in mille modi questi scienziati che devono decidere sono condizionati da queste potenze straordinarie questi sono hanno la possibilità di mobilitare sonni immense per corrompere per corrompere i decisori i decisori politici vabbè le cose che diceva Pinuccia mi trovano mi trovano concordo non vorrei non vorrei farvi diciamo perdere tempo ricordando quello che in parte ho detto e quello che in parte sapete ma voglio dire una cosa sulla biodiversità e che vedete la biodiversità per capirla bisogna immaginare che l'agricoltura non è altro che una selezione continua millenaria che i contadini hanno fatto delle piante selvatiche migliorandole continuamente e quindi hanno avuto a disposizione un patrimonio immenso spontaneo prodotto dalla natura e da questo hanno selezionato hanno selezionato le migliori le hanno fatto quando dice dice un Claude Bourguignon un grande agronomo francese che da forse esagerando che da mille anni a questa parte l'agricoltura non ha inventato più niente l'agricoltura cioè tutte le piante che noi conosciamo diciamo dai cereali agli ortaggi ai frutti le hanno già scoperte i contadini le hanno già realizzate i contadini l'opera che abbiamo fatto noi agricoltori industriali diciamo così è stata quella di ridurle di aumentare la loro produttività il loro numero ma diminuirne la qualità diminuirne la varietà quindi ridurre la biodiversità quindi contrarre questo immenso patrimonio che è frutto della natura e del lavoro secolare empirico paziente di milioni di generazioni di contadini è una perdita incalcolabile a favore del profitto a favore così di merci e di merci scadenti c'è il discorso poi dell'economia locale vedete se si consuma localmente ne guadagnano nei territori perché i soldi restano in loco non vanno ai supermercati non vanno alle multe nazionali quindi non emigrano non vanno a nutrire la finanza internazionale vorrei rispondere vorrei rispondere alla giusta osservazione di Bruno cioè questo è un problema vero cioè il costo il costo diciamo del dei prodotti biologici e la come dire l'inaccessibilità ai consumatori di basso reddito è un problema che noi ci dobbiamo porre naturalmente è giusto perché altrimenti i poveri mangeranno cibo contaminato in sapore e diciamo e certi ambienti si potranno permettere il lusso qui ci sono diversi problemi innanzitutto è un problema di commercializzazione cioè voglio dire che il commercio pretende un po' troppo il commercio biologico diciamo permette diciamo un po' troppo e spesso come dire i negozi del biologico adesso però stanno crescendo quindi c'è un minimo di competizione fra queste il prezzo tende ad abbassarsi però vedete per molti prodotti l'agricoltura biologica e naturalmente biodinamica potrebbe permettersi prezzi di vendita competitivi con quella industriale almeno a parità non dica parità di qualità che non sono incomparabili ma diciamo abbastanza abbastanza collimante perché i costi di produzione sono pochi sono il lavoro il lavoro umano perché non c'è non si usano di serbanti non si comprano concimi chimici non si comprano naturalmente fittofarmaci e così via quindi le spese le spese in bilancio dell'agricoltura biologica sono inferiori a quella dell'agricoltura industriale quindi teoricamente si tratta di un problema di distribuzione per questo diciamo i i gas e organizzazioni volontarie e consimile sono molto utili perché fanno risparmiare sui prezzi e consentono diciamo di comprare prodotti biologici ad un prezzo diciamo contenuto c'è poi anche un problema culturale da tenere presente perché spesso si spendono somme smodate per altre cose lo dico purtroppo è così è un fatto culturale il cibo si considera secondario si bada al prezzo quando si compra il cibo e non alla sua qualità e che so si spende tanto per i telefonini per altre per altre cose e per il cibo il cibo è considerato una cosa ed è grave specie in un paese come l'Italia dove abbiamo la cucina più varia e più ricca del mondo del mondo credo di averlo dimostrato anch'io diciamo nel mio piccolo avendo scritto un libro su questo insomma risultato di ricerche storiche e allora ma c'è da fare anche un altro discorso che è la registrazione di una realtà in atto bisogna incrementarla le menze scolastiche le menze degli ospedali diciamo i dispensatori degli uffici devono fornirsi di merce biologica questo deve avvenire diciamo grazie all'intervento dei comuni o delle regioni eccetera per favorire le produzioni biologiche in questo modo diciamo se si aumenta il reddito di queste attività economiche che sono spesso minoritarie si diminuisce anche il prezzo perché diciamo il reddito diventa sufficiente per l'agricoltore e può permettersi anche prezzi più bassi e naturalmente questo però comporta appunto come al solito l'intervento della politica noi dobbiamo dobbiamo operare ma secondo me dovremmo dovremmo cercare dovremmo cercare intanto ecco Maddalena giustamente diceva ci sono molte terre collettive vedete nelle campagne nelle campagne c'è una ignoranza sulla proprietà delle terre perché molte terre sono state abbandonate gli eredi dei vecchi proprietari non ci sono più le terre non si sa di chi sono ci sono terre del demanio ci sono terre del patrimonio comunale più occorrerebbe che i comuni facessero ordine su queste realtà per poterle assegnare ai giovani per poterle assegnare in cooperative ai giovani migranti ci vorrebbe iniziativa politica ma naturalmente voi voi ascoltate chi di voi ha la pazienza allo stomaco di ascoltare i talk show televisivi problemi di questo genere appaiono sulla bocca dei nostri giornalisti dei nostri politici non esiste nulla di questo cioè ciance da società dello spettacolo che ci stordiscono quotidianamente che non offrono nessuna nessuna crescita culturale ai cittadini e soprattutto non indicano nulla ai giovani eppure l'agricoltura è veramente un campo straordinario pieno di prospettive per il futuro anche perché oggi andare a coltivare la terra non è andare a zappare la terra sia perché adesso ci sarebbe un discorso lungo da fare perché si possono coltivare nuovi prodotti molto remunerativi l'aloe la canapa eccetera tutti i semi i semi che entrano nell'alimentazione macrobiotica i melograni e così via che fanno parte della nuova medicina eccetera eccetera e quindi è un'agricoltura che dà reddito ma c'è l'aspetto ambientale cioè chi si mette in agricoltura sa di dare un contributo al sistema ambientale sa di produrre ossigeno sa di produrre di produrre di conservare la biodiversità di conservare il territorio e i suoi assetti idrogeologici sa di difendere la bellezza del nostro paesaggio agrario quindi diciamo i giovani possono essere investiti di motivazioni molto più ampi e molto più di carattere ideale che non quelli esclusivamente di carattere economico va bene io dico un grande grazie a Roberto Morea che è gentilissimo e sempre disponibile oltre che sempre bravo ed efficiente ha permesso questo collegamento e a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi noi ci ci rivedremo il 14 con la lezione del professore Gianfranco Viesti che terrà una lezione sul tema l'autonomia differenziata e il futuro del mezzogiorno Viesti è l'economista che più di ogni altro si è battuto contro questa sciagurata prospettiva grazie e buona serata grazie ciao a tutti grazie a tutti ancora grazie 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 a voi grazie grazie